De Keterare sta giocando, sta giocando bene, sta segnando, insomma sta facendo tutto quello che non ha fatto al Milan Io oggi voglio un po' analizzare la sua situazione nell'Atalanta, magari fare anche qualche piccolo confronto con la situazione del Milan e capire veramente se alcune cose che sono dette su di lui sono vere o false Il tutto analizzando delle situazioni di gioco, ti chiedo subito di iscriverti al canale Questo è il suo goal contro il Genoa, goal veramente molto molto bello creato anche da lui praticamente perché si trova di spalle al difensore e alla porta e in pochissimo tempo effettua questo tiro bellissimo per poi segnare Penso che ci siano pochi dubbi nel dire che questo tiro al Milan non l'avrebbe mai fatto ma non perché non si sarebbe mai trovato in questa situazione ma perché molto probabilmente non si sentiva addosso la fiducia per poter provare un tiro del genere E qui ovviamente il contesto fa tanto perché nell'Atalanta puoi sbagliare anzi non dico che hai l'obbligo di sbagliare per crescere, per imparare ma quasi, nel Milan invece ogni pallone pesa tanto non mi riferisco solo all'aspetto del pubblico perché comunque anche nel Milan allo stadio veniva eloggiato, veniva sostenuto, veniva tifatto nei social molto meno però comunque è una situazione in cui magari al Milan avrebbe avuto un po' più di paura nel provare una giocata simile, magari avrebbe provato a difendere il pallone avrebbe provato un passaggio però vorrei anche analizzare gli aspetti tattici, non solo quelli mentali e voglio anche smontare alcune convinzioni che sono nate su di lui quindi una su tutte il fatto che nell'Atalanta gioca prima punta gioca attaccante centrale, non è proprio così ci sono situazioni, ci sono partite in cui lui magari sì è un po' più centrale a seconda anche dei compagni di reparto io ho voluto prendere questa partita contro la Lazio in particolare perché Decaterale praticamente era una specie di esterno a sinistra tra l'altro, neanche piede invertito quindi andava sul suo piede forte sul sinistro e proprio in quella partita ha fatto veramente tantissimi ma tantissimi cross e tendenzialmente chi agiva da prima punta in area di rigore era Pasaric quindi un centrocampista che sa inserirsi molto bene in area di rigore dall'altra parte invece c'era Miranciuk quindi a piedi invertito per poter calciare forte come sa fare lui ed ecco proprio una situazione in cui Decaterale è molto lontano dalla porta e non agisce da goliador, da bomber ma più da rifinitore in questo caso vediamo l'uno contro uno proprio sulla fascia quindi sta molto a largo come una giocata lunga il pallone c'è questo uno contro uno che va a finire con questo contrasto tentato da parte del calciatore della Lazio tentato appunto ma non riuscito perché l'attaccante dell'Atalanta riuscirà a superarlo per poi crossare in area di rigore ripeto quello che ho detto prima Pasaric comunque agiva come se fosse una prima punta quindi per vie più centrali in area di rigore più Miranciuk che comunque partiva dal centro-destra per poi anche accentrarsi quindi qui c'è il cross proprio per i due compagni di reparto in questo caso non c'è una buonissima intesa il pallone comunque andrà nei piedi di Pasaric che poi proverà il tiro altre cose che sento comunque Decchettelare ha bisogno di ricevere il pallone nei piedi non proprio così altra situazione sempre con la Lazio qui vediamo un passaggio dalla fascia per Decchettelare che attacca la profondità quindi corre in avanti non va in contro il pallone per averlo nei piedi qui si allarga ancora nuovamente per ricevere il pallone però diciamo che agisce un po' più tra le linee e lascia ancora una volta il centro e il centro-destra in questo caso altri due mancini Miranciuk e Kovmeijers quindi si adatta anche alle caratteristiche dei propri compagni di reparto in questo caso va a sinistra nuovamente e ripeto situazioni simili se ne sono visti veramente tante in questo caso di nuovo Pasaric, di nuovo Miranciuk ma anche Scalvini dall'altra parte sul secondo palo e l'inserimento di Ederson per via un po' più centrali quindi ancora una volta il cross ma non è finita qui tornando all'aspetto sulla fascia quindi gioca un po' più esterno ma anche all'aspetto legato alla mentalità quindi provare giocate che magari al Milan non faceva in questo caso largo contro il Bologna cerca l'uno contro uno per dribblare e ci riesce quindi in questo caso supera l'avversario va nuovamente in un altro uno contro uno liberando però il suo compagno in questo caso qui quindi altra giocata molto interessante che non viene effettuata per via centrali ma più esterne altro luogo comune che vorrei smentire riguarda la fase difensiva si parla di come nel Milan ne facesse troppa e parlando appunto di De Ketelare come se fosse una prima punta si pensa che nell'Atalanta non faccia la fase difensiva diciamo che quando si gioca per mister Gasperini la fase difensiva esiste è abbastanza dura per certi aspetti bisogna impararla e non tutti ci riescono subito De Ketelare non è esente da tutto ciò in questo caso sì gli avversari attaccano qui vediamo addirittura contro il Milan e De Ketelare è questo qui quindi va a pressare fuori dall'area di rigore la propria area di rigore allineandosi praticamente ai centrocampisti in questo caso qui a volte seguiva i difensori laterali in questo caso contro il Bologna il difensore centrale non Calafiori ma Beuchem quindi Beuchem lascia la propria posizione centrale va in avanti De Ketelare che era l'incaricato per seguirlo per marcarlo e per pressarlo è costretto appunto a seguirlo ovunque in questo caso fino a qui lasciando quindi la propria posizione più offensiva per andare un po' più indietro tutto questo si può rivedere in altre situazioni come questa in cui nuovamente si riavvicina alla linea dei centrocampisti in questo caso Ederson qui e Kupemanias da questa parte allontanandosi però dalla propria zona di competenza quella offensiva per me è una delle vittorie più importanti che l'Atalanta e i mister Gasperini possono vantare di aver fatto con lui è il fatto che l'hanno lasciato un po' più libero di mente ci sono partite in cui ha sbagliato tanto non è stato un problema anzi ha comunque avuto la fiducia di tutto il contesto ripeto tutto il contesto la maglia dell'Atalanta pesa diversamente rispetto a quella del Milan e nell'Atalanta diciamo che può far vedere il proprio talento la propria imprevedibilità anche per certi aspetti però non deve neanche sforare in alcuni dettami tatici imposti ovviamente dall'allenatore che possono quindi essere molto importanti per lui quindi sentire anche il fatto che debba rispettare alcune cose può comunque farlo crescere a livello mentale quindi renderlo più partecipe non solo nella manovra di gioco ma anche nell'aspetto mentale quindi essere concentrato per tutta la partita è qualcosa che ad esempio mister Gasperini rimprovera a Scamacca tutto ciò quindi deve essere contrapposto a mister Pioli secondo alcuni sì, secondo me non proprio perché il problema di fondo è che nel Milan non sempre puoi essere aspettato ancora più quando spendi tanti soldi che magari potevano essere investiti in altro modo ma non è assolutamente una colpa del calciatore io penso che nel Milan lo si sarebbe anche aspettato però è stata accolta l'occasione per poter cambiare molto a livello tattico quindi cercare magari meno trequartista ma più un centrocampo più mobile l'off-to-cheek ad esempio fa ancora una sorta di trequartista ma lo fa ovviamente con compiti e funzioni diverse rispetto a quello che potrebbe fare del caterare e quindi penso che semplicemente il calciatore attuale dell'Atalanta sia arrivato in un contesto molto difficile e magari anche sbagliato per quel Milan e per questo Milan attuale in altri contesti magari lo si sarebbe anche aspettato come è stato fatto ad esempio con Brahim Diaz che nel primo suo anno al Milan diciamo che era un po' l'ombra di Ceranoglu poi una volta andato via al Turco all'Inter Diaz ha trovato continuità di rendimento di continuità è ritornato anche al Real Madrid e quindi tutto questo non è stato fatto con De Cattelare quindi non è stato potuto aspettare un altro anno come è stato fatto con Diaz scrivimi nei commenti cosa pensi di De Cattelare iscriviti al canale e ciao a tutti da Mondo Calcistico Grazie a tutti